Il successo lo raggiungi con la sponsorizzazione, seminario autunno 2021. Mariella Grassettini, Master of Conference, di questo bellissimo seminario. Una frase messa in evidenza da Mariella è proprio per raggiungere cose nuove dobbiamo fare cose nuove. Tantissima voglia di rivedersi, riabbracciarsi, erano quasi due anni di stop. Sicuramente abbiamo avuto degli interventi straordinari dove la determinazione e la gran voglia, il grande obiettivo che le persone si mettono di fronte non ha ostacoli. Se credete in qualcosa, fatelo inconsapevolmente se qualcuno o meno crede in voi. Bye bye!